Un caffè con Salvatore Negro, Totò, Totò per gli amici ma Totò per tutti, hai tanti amici e quindi ti chiami Totò. Volevo chiedere come mai hai scelto di essere nei popolari con il Presidente Emiliano? Abbiamo fatto questa lista dei popolari insieme agli amici del Centro Democratico di Realtà d'Italia e noi dell'Udc. Abbiamo cercato di proporre quindi un'aggregazione di uomini di centro, uomini che si ispirano al popolarismo europeo e per costituire l'anima moderata di questa coalizione di centro-sinistra che si candida a governare la Puglia nei prossimi 5 anni. Perché la scelta di Emiliano? Perché con Emiliano innanzitutto l'Udc ha governato anche a Bari nella sua città, quindi l'abbiamo conosciuto come sindaco e immaginiamo e sosteniamo la sua idea di fare una volta eletto il sindaco di tutta la Puglia. Quindi mettiamo in soffitta il sistema di governatore che fino ad oggi è esistito, quindi una sorta di uomo solo al comando e passiamo al sindaco, al sindaco di Puglia che vuol dire stare tutti i giorni con la gente, ascoltare tutti i giorni i problemi dei cittadini e soprattutto stare sempre sul territorio pugliese. Devo dire che sei stato capogruppo dell'Udc in questa ultima legislatura e sei stato nel voi dell'Udc comunque, siete stati un'opposizione responsabile. Sì, noi abbiamo detto dall'inizio della legislatura, eravamo in consiglio regionale come terza forza, oltre al centro-sinistra e al centro-destra c'eravamo noi di centro e abbiamo operato distinguendo le cose che noi pensavamo, abbiamo pensato fossero gli interessi di tutti i pugliesi, le abbiamo sostenute. Quelle che noi ritenevamo essere contrarie agli interessi della Puglia le abbiamo ostacolate, le abbiamo osteggiate. Questo è stato il nostro modo di fare. Diciamo, ecco, è stata una posizione costruttiva che ha portato anche dei risultati importanti. Ricordo il nostro contributo e l'appoggio indispensabile all'approvazione del piano di rientro. Senza il nostro appoggio la Puglia avrebbe ottenuto il commissariamento da parte del governo, quindi con tutti i danni che crea quest'atto. Il tuo programma vede delle caselle importanti che sono la sanità, appunto parlavi del piano di rientro, l'occupazione e l'ambiente. Parliamo quindi della sanità, tu hai già accennato che avevate dato il vostro appoggio per il piano di rientro. Era basato sulla realizzazione di nuovi ospedali e sulla conversione di strutture ospedaliere dismesse, cosa che non è stato fatto. Certo, ricordato bene lei, noi avevamo condizionato il nostro appoggio all'attuazione di alcuni punti da non ritenuti qualificanti, come la costruzione di nuovi ospedali, previsto già nel piano di riordino ospedaliero da anni, come la riconversione immediata delle strutture dismesse in poliambulatori, case della salute, cioè tutte attrezzature e strutture a servizio del territorio e poi soprattutto l'istituzione di una commissione di inchiesta sugli sprechi della sanità che secondo noi, ma non solo secondo noi, sono tanti e vanno assolutamente al più presto rimossi. Questa è stata un po' la delusione perché poi questo governo regionale queste tre cose non è riuscito a realizzarle. Ecco perché l'impegno assunto da Michele Emiliano e quindi sottoscritto insieme a noi e gli altri amici che fanno parte della sua coalizione sarà un impegno che dovremmo attuare nel prossimo quinquennio. Anche per l'occupazione ti sei molto impegnato nell'ultima legislatura ed è un argomento a principe del tuo programma. Innanzitutto abbiamo presentato una legge già all'inizio 2010 per dare dignità ai tanti lavoratori LSU, cosiddetti lavoratori socialmente utili, che da oltre vent'anni sono a servizio delle nostre amministrazioni, delle comuni, province e rendono un servizio insostituibile, ma ai quali non viene riconosciuto il diritto principale, cioè la contribuzione ai fini pensionistici. È una cosa inaccettabile. Abbiamo fatto approvare una legge che anche questa è rimasta però nel cassetto ed è questo uno dei primi impegni che cercheremo di attuare nella prossima legislatura. E poi anche cercare di implementare l'orario di lavoro perché loro con circa 530 euro al mese devono sostenere una famiglia e non penso che sia facile. La piccola e media impresa da noi soffre? Sì, soffre soprattutto l'edilizia che secondo noi è il motore dell'economia pugliese. Per questo abbiamo delle idee, abbiamo cercato anche di farle in proposte di legge in questa legislatura. Una deve essere un grande piano casa. La crisi abitativa è sotto gli occhi di tutti noi ed ogni giorno. L'ultimo dramma che la cronaca ci segnala, due mamme, due madri con i bambini piccoli che sono state sfrattate in una cittadina della nostra provincia. Cosa bisogna fare secondo noi? Bisogna mettere in campo un'idea che i governi del passato, per esempio nel 78, il governo centrale, attuovo il piano decennale per la casa, che in buona sostanza è dare contributi e consentire alle giovani coppie, alle famiglie tutte, di stipulare dei mutui con le banche per poter realizzare il fabbisogno abitativo. Oggi sappiamo che avere un mutuo è difficilissimo, ma se la regione si mette a garanzia di queste famiglie, di queste giovani coppie, anche delle imprese, sarà possibile rifare quel piano che la legge 457 del 78 permetteva in quegli anni, rifare quel piano soprattutto cercando di ristrutturare tutte le dirizie esistenti realizzate negli anni 60 che ha bisogno di interventi urgenti. Ambiente, sei un architetto anche nel Consiglio dell'Ordine, sei stato anche vicepresidente del Consiglio. Siamo in una delle piazze più belle d'Italia, Muro è una cittadina fantastica. Ecco, avete fatto il piano paesaggistico pugliese, che cosa cambierà con questo piano? Cosa cambierà? Cambieranno tante cose in meglio. Bisogna avere però la capacità di capire gli aspetti positivi, e sono tanti, di questo piano. Ne dico una, intanto tuteliamo il nostro patrimonio culturale e paesaggistico in modo puntuale, quindi non più solo alcuni amministratori virtuosi o alcuni amministratori sensibili. Noi abbiamo la possibilità di far rispettare i beni culturali, l'ambiente, il paesaggio in tutta la Puglia. Ma non solo, i tecnici, le imprese, tutti gli operatori del settore potranno nei prossimi anni misurarsi in un senso positivo, cioè esprimendo qualità. Ecco, più che quantità, con ciò noi potremmo esprimere nella nostra Puglia qualità. Ricordo, siamo la prima regione ad aver approvato questo strumento di pianificazione importantissimo. Che potrebbe portare benefici anche al turismo? Certamente, perché la cave di volta dell'attrazione turistica, quindi le presenze qui che abbiamo ormai provenienti da tutte le parti del mondo, viene proprio dalla bellezza dei nostri luoghi. Sicuramente è importantissimo il turismo per la nostra regione, per il nostro Salento, però i turisti devono arrivarci, quindi sono necessarie delle infrastrutture. Cioè non è possibile che un turista arrivi per esempio a Brindisi, all'aeroporto di Brindisi, e poi non abbia la possibilità di arrivare all'Euca, di arrivare a Castro, di arrivare a Otranto, a Gallipoli, per citare le più importanti località turistiche del Salento, senza il trasporto pubblico immediato e diciamo anche coordinato. Ci dovrebbero essere scesi dall'aeroporto di Brindisi, come avviene in altre parti d'Italia, pensiamo a una metropolitana di superficie, sfruttando per esempio le rotaglie che attraversano quasi tutto il Salento, per poter consentire il raggiungimento in poco tempo e anche in modo razionale. Competenza, assoluta competenza nell'amministrazione, perché come ricordavo prima, grande esperienza di carattere amministrativo, ma anche radicamento nel territorio e buonsenso. Sì, questi penso debbano essere requisiti di una persona che voglia fare politica. Deve avere competenza, ecco perché io da tempo propongo che i partiti dovrebbero, come dire, selezionare in modo più oculato i candidati che poi andranno a rappresentarci nelle istituzioni. Hai lottato contro la mala burocrazia? Sì, questo è uno dei mali che secondo me va rimosso, bisogna fare ogni tentativo per rimuoverlo. Cioè io ho fatto delle battaglie su fatti concreti, cito uno così, ad esempio forse uno di quelli più eclatanti. Noi non possiamo attendere da oltre 30 anni, per esempio, l'attuazione di un porto turistico a Dothranto, che in linea di principio nessuno è il contrario, nessuno dei salentini e dei pugliesi, però poi bisogna attendere 20 pareri, fra commissioni, istituti, uffici, dirigenti. E tutt'oggi ancora non si vede, diciamo così, la luce dell'inizio dei lavori, nonostante, e questo è un fatto gravissimo, non solo per la Puglia ma per tutto il sistema Italia, nonostante siano pronti a disposizione oltre 60 milioni di euro di fondi privati, quindi non parliamo di fondi pubblici, con i lacci dei patti di stabilità, con il problema della spesa pubblica. Il privato deve essere messo in condizione di fare gli investimenti e quindi di intervenire. Componente del direttivo ANCI, membro della commissione beni culturali, e componente del Consiglio nazionale dell'UPI, cioè delle province, l'UPI è meno famoso dell'ANCI, quindi veramente moltissime competenze, sia nel piano amministrativo che nel piano culturale, abbiamo detto del piano paesaggistico che è stato varato, ma per i beni culturali così vediamo questo meraviglioso castello di muro. Che cosa si intende fare? Io intendo, dopo aver lavorato nella mia esperienza di sindaco, molto sul recupero del patrimonio culturale, la mia città ha visto in quegli anni il restauro, il recupero di tutti i beni culturali, chiese, conventi che qui abbiamo la fortuna di avere, il Palazzo del Principe, il Museo di Borgoterra, è l'unico museo medioevale esistente da Napoli in giù, nel meridione, grazie all'apporto che abbiamo avuto e continuiamo a avere dall'Università di Lecce. Adesso però bisogna fare sistema, se noi spendiamo per il recupero e per il restauro, ma poi questi monumenti restano chiusi, non c'è chi li apre, non ci sono le guide, non c'è chi li gestisce, non c'è quindi valorizzazione, allora avremmo fallito. Noi i prossimi anni dobbiamo lavorare soprattutto in questa direzione. E adesso un'ultima domanda, perché una persona deve votare il candidato Salvatore Negro, detto Totò? Posso assicurare, e sta agli atti, intanto che in questi cinque anni risulto essere uno tra quelli che non sono stati mai assenti dal Consiglio regionale. Quindi in una classifica stilata qualche tempo fa dai giornali pugliesi, si può riscontrare che appunto il mio nome sta in cima alle presenze. Posso solo garantire agli lettori e agli amici che mi hanno votato, che si accingono magari a votarmi, che ho dato il massimo delle mie possibilità. Su quello non ho da rimproverarmi nulla. Certo, magari avrò peccato, avrò fatto tanti errori, ma fa parte della natura umana. Uso una cosa, ho garantito e posso garantire. L'impegno massimo e l'ho fatto con la massima onestà. Non ho altro da aggiungere, il cittadino può scegliere liberamente. Non ho altro da aggiungere, il cittadino può scegliere liberamente.